Ehi, ciao Ehi, allora, questo è un video E... dove siamo, Tara? Allora, siamo su Evermine, io sono davanti a un vetro, lui dietro a un vetro Posso? È verde Ciao, ciao, ciao Ehi, gente! No, 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 no Va bene Ehi, gente, oggi siamo su Evermine, siamo nella serie i servers Insieme a Ricky, là dietro, saluta Ciao E in questo server, praticamente, si gioca a Minecraft Allora, visto che l'episodio scorso con CodeSneak è piaciuto molto Questa serie andrà avanti, quindi per vedere altri video di questa serie Lasciate like, commentate E... basta Ora tolgo la shader Ok, raga, tolto la shader, lasciate like Anche in questo server si può fare slash skin e mettere una skin, sì Eh, devi scrivere il nome del giocatore che... sì, vabbè, sì, non ci vuole di leggere Usare qualsiasi tipo di macro potrebbe comportare un ban temporaneo Ok, raga, sentate sui server e non usate le macro Però, ho una... però senza le frecce, però Ok, raga, la TNT esplode subito, non provate a fare i ponti con la TNT Non sei morto, vero? No Ok, ragazzi, sono stato molto bravo in questa partita, mi raccomando Per diventare come me, piazzate la TNT Allora, la partita è persa Anzi, no, è stata vinta, con successo E ora andiamo in un'altra modalità, come per esempio Castle Wars Vero, Ricky? Sì, Ricky Sì, vero, molto vero Però aspettami, ma mi stai guardando come sto uccidendo tutti? Sì, sì, ti sto guardando Sei troppo bravo, Ricky Allora, qua dobbiamo andare in una mappa tipo questa E praticamente bisogna fare qualcosa Ho un cavallo, uccido un cavallo Uccidendo il cavallo sono morto pure io, perfetto Allora, questa modalità mi è piaciuta molto Quindi ora andiamo nel kit PvP A fare casino Ok, raga, qua abbiamo un OP Quindi è meglio non andarci Perché noi non abbiamo niente Confronto a lui E non lo so, saltelliamo un po' qui intorno Lì c'è un tizio, FK Non si è ripreso E adesso lo uccidiamo Imperiamo Vieni qua, vieni qua, vieni qua No, è forte, 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 è forte E qui qua c'è un'altra bella persona che vuole magari clean uparci Aspetta, ci faccio botte io No, ok, lì non entrano Quindi, bello, molto bello Ok, sì, ok, sì, 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 ok Ci siamo, sì, sì, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo Ho vinto? Ok, esplosa Qualunque cosa sia esploso Ok posso mangiarmi una bella me Sono precipitato Quindi ora faccio No Enrico brucia Brucia pure tu Allora bellissimi questo era il video So che fa schifo però Però io sono speciale Quindi lo diterò in un modo Molto 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 Bello E boh lasciate like Molti like Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi perché dovete supportarmi Lasciate anche like perché dovete lasciare like Ho 68 iscritti Passate da Ricky da lui Perché ha bisogno di iscritti Anche se fa un video Ogni 3-4 mesi Però iscrivetevi comunque Per chi non l'avesse capito lasciate like E noi magari ci vediamo in un prossimo video Forse Se tutto va bene E niente Ricky è morto Bello Ok sono morto intanto Perfetto Mi è piaciuto molto Qua possiamo notare La luce divina E boh lasciate like Iscrivetevi al canale E noi ci vediamo nel prossimo video Bella ciao